Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovamente con Call of Duty Ghost Andiamoci a spararci un'altra bella partitina multiplayer Su questa mappa è un bel po' che non ci gioco Quindi vediamo un po' di fare una bella partita Andiamo! Questa è tosta principalmente per un motivo Perché tanti qua camperano E soprattutto ci stanno tante volte i cecchini Allora, là non c'è nessuno Piano Eccolo, eccolo, eccolo! Mio! Sei mio! Andiamo Stanno tutti quanti? Belli? Facciamoci il giro da dietro, va? Andiamo un po' Cominciamo ad utilizzare qualche tattica diversa rispetto al solito Aspetta che c'è sta uno qua Uno qua Oh! Fermo! Due! E' grande! 3-0 già! Ma che cacchio Ma che partita è? Con la gente camperata Ma almeno uno che guardasse le spalle all'altro Tutti e due che sparavano dallo stesso punto Possino caricarli Vabbè, a noi va bene perché Aspetta, aspetta Eccolo! Vedevo un puntino rosso Andiamo sopra Piano Piano Qui Aspetta Eccolo Ma che cacchio stanno a fare questi Stanno a cercare Deve fare sfide Tanti Mettiamo un IMS qua Così almeno No! Che cacchio A momenti muoio Aspetta che là Sta bene qualcuno Che cavolo Me ne mancano due all'indale Non lo posso perdere Eccolo! 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 Un porco Allora Andiamo a vedere qua Se sul punto di respo Eccolo! Torretta Grande torretta Chiamiamo l'AIDA Andiamo Subito un 7-0 Aspetta Eeeh! Doppia! No! Uno me l'ha rubato Aspetta Bello Niente Via Ricarichiamo E Torniamo indietro 8-0 No! Chi è che mi spara? Chi è che mi spara? No! Che cacchio! Ma come si è morto? Ragazzi Stavo dietro un muro Ma questo ancora che sta a fare sfide Quella per l'arma Dai! Quella da pizzato al muro Eccone in altro Dai! Dovete uscire da ste cacchio di case Perché? A me la cosa che mi fa proprio Rode Ma proprio Ecco Mi hanno pure sfondato l'AIDA La cosa che praticamente mi fa proprio Rode Oh! Questo perché muore? Guarda Guarda Ecco Oh! Lo sapevo Non muoiono Poi ce vai contro E niente Un po' colpe Oh! E devi morire però Eh! Mannaggia Oh! 10-3 Oh! Cacchio! Ero partito tanto bene E subito che rompono l'anima Oh! Allora Eccolo! E muori! E muoio proprio stufato Che cavolo Oh! Mannaggia La miseria Muori No! 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 Uh! Che l'ho ucciso il cane? Grande collega Grazie mille Ma hai salvato Uh! Porco cane Se no il cane non so se ce l'avrei fatto a ucciderlo eh Ragazzi piano Ragazzi piano Ragazzi Piano Vecchio No! Ecco Il classico camperaccio Sopra Il camion Fermo Aspettare Non si sa chi E ovviamente Chi può ammazzare E devi morire Ok Ora me la paghi Più 100 Perché non è possibile Ma che cavolo è? Mannaggia Oh! A me la cosa che mi fa proprio rude è Che se le partite fossero tipo tutti Che Chi è che mi spara? Tutti che sparano O meglio Tutti che si muovono Io penso che farei 200 kill a part... Eh 200 kill a partita Invece Col cavolo Che Che nel senso Becchi sempre Chi sta fermo Tenta rompere la serie di uccisioni Ti attacchi al cavolo Perché? Poi ci stanno sempre Aspetta Vieni qua Dicevo Eh Ci stanno sempre Almeno di una squadra De 6 3 E 3 Che si muo... Eh muori Eccolo in altro Oh! Quanti! Quanti! Scappa! Scappa K Eccolo Mio! Oh! IMS Via 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 Oh! Ma che... Oh! Ma manco se ne ha accorto di me E muori Torretta E dai Quindi dicevo De una squadra De 6 Chi è che l'ha ammazzato? Guarda quello Muori De una squadra De 6 Almeno 3 Vanno sempre in giro Quindi uno Riesce a fare Delle serie di uccisioni Molto buone Poi però La rogna Eccolo L'altro hind Ma come ne sa accorto Prendendo la piastrina Ok Dicevo Uno neanche se ne accorge Aspetta Piano Vorrei metterlo Qua che almeno È un punto onde campera No Perfetto Quindi sta dicendo 3 almeno si muovono L'altri 3 Se fermano Se interrompe La serie di uccisione E porcaccia miseria Se no Andre Vieni qua Ancora che stanno A sparare il mio hind Guarda lì Ma perché? Ma comunque 21-6 Non me ne sa Questo Bello Che pensai Non ti avevo visto Aspetta che vedo Dei puntini rossi Eccolo Dov'hai? Dai Morto Ecco E me becca Ovviamente quello Che sta per rinascere Sul nuovo punto Hind D'assalto Distrutto Te pareva Cacchio Li prenda a fa Sarebbe da Mo ce prova Mo Qualche partita Ragazzi Appena riprendo Ancora meglio La mano Me li faccio un po' Con l'elicotterista Perché Non è possibile Che Questo Dove va Mio 26-7 Aspetta Ho visto qualcuno Morto qua Chi ha ucciso Quello? Stanno qua sopra Mettiamo di MS Qua Eccoli No Tripla Tutti e tre Quasti Camperacci Che Spettacolo Tripla Per me Ma avete Visti No Io veramente So cose Che non mi riesco Proprio a A A A spiegare Ma in tre In tre Tutti e tre Ma come se fa a giocare così Poi per fortuna Che uno Come me Tocca Oh Mannaggia Mi sono sbagliato l'entrata Dico Uno Meno male Meno male è come me Che se ne va in giro E li va a cercare Perché se no Era me Cosa che l'ho Oh Cosa miseria Un tempo Un tempo 31-7 Mamma mia ragazzi Sta facendo una partita Vieni Qua Questo qua Manco se n'ha accorto di me Dove cacchio è andato Sta sopra Sta sopra ragazzi Andiamo Piano 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 avanti Eccolo E non se n'ha accorto Aspetta aspetta C'è sta uno col cecchino Vai e vai Mamma mia Ma che cacchio Mi sta a capitare Sta partita Il peggio del peggio Mi sta a capitare No Una partita incredibile No C'ho il links Allora Attenzione Che forse Oh Questo che cerca Di salire No no Li devo sfondare con links Devo provare a fare qualcosa Di incredibile Su Affacciatevi Preso Preso Cecchino Oh aspetta Ce n'è sta un altro Piano 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 preso Colpo preciso Preso Ma che cacchio Sta succede Ma che è E' una partita Incredibile 41 7 Ma che cacchio Sta A parte Vabbè Tante partite Non ve le pubblico Nel senso Non è che Nel senso Non è che Sto sempre a registrare Partite Nel senso Mi metto ogni tanto Di quelle migliori Che faccio Ve le Ve le pubblico Però Por caccia la miseria Ma era da tanto Che non mi capitava Una partita Con certi Che Veramente Mi fanno Tagliata Le risate Così Ma quello Col cecchino Che non mi riusciva A prendere E sono riuscito Poi a cecchinarlo Io da Oh Che ho fatto Guarda Guarda quell'altro 46 8 Ragazzi Se continuiamo così Ce ne andiamo verso Le 50 Ecco fatto Ucciso Con un colpo Che mi ha spaccato Lo stomaco Proprio Sventrato Porca Aspetta Andiamo De qua Ho visto qualche colpo Partire Vecchio Avevo visto qualcosa Ecco Avevo sapevo Avevo visto qualcosa Guardando sta Quel camper Perché Dovete stare Agli angoli Della mappa Perché Perché Ma che v'ho fatto Di male Perché Mannaggia La miseria Non è possibile Oh Chi è che spara Chi è che spara Chi è che spara Oh Oh Andiamo Sempre quello laggiù Ce sta Andamolo Andamolo a sventra E muori Camperaccio Ah E sta un altro Anche se esplode il mondo Prendiamo la piastrina Qualcuno ce sta a uccidere Ce l'abbiamo dietro Zitti Vai vai Eeeh Preso 6300 Uccidi lo stesso Un amico Non ho letto bene Tutta la cosa Dai dai Piano Piano Possibile Non viene nessuno Manca pochissimo Alla fine ragazzi Oh Oh No Devi morire Guarda Mamma ammazza Mamma No Do scappa Do vai Dove vai Guardalo Guardalo Che infido Mette le cose per terra Per farmi Ma quante Tocca Cacchio Che è questo Ok Donno uccide quello Donno uccide quello Me ne manca una alle 50 Do sta Eccolo 50 50 50 kill 61 30 Che partita Incredibile E l'ultima E la mia Penso Si Amante tecnologia Gioco d'astuzia 50 kill Ragazzi Spero che il video Sia stato di vostro Gradimento E ci vediamo Con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio Canale